Salve a tutti ragazzi, io sono Cor96 e benvenuti in questo nuovo video lore. Quella che vedremo oggi è proprio la lore di uno dei personaggi più enigmatici e sfuggenti di tutto l'universo di Warhammer. Ma voi già sapete di chi sto parlando perché anche se non aveste letto il titolo del video, cosa alquanto improbabile, sicuramente lo avrete capito da questo meraviglioso artwork della nostra Narama 91. Oggi è arrivato il momento di parlare proprio della regina Morati. Perciò mettetevi comodi, afferrate uno snack e partiamo. Ma piccola curiosità, alla fine questo snack lo mangiate davvero? No perché a me piace sgranocchiare qualcosa mentre guardo video di lore su youtube quindi non so, magari fatemi sapere se anche per voi è lo stesso e se volete ditemi anche che genere di snack mangiate, così giusto per fare due chiacchiere. Morati, o la regina d'ombra, è un essere antichissimo, madre di Malekith, il re stregone, e fu anche consorte di Enerion, il più grande eroe elfico che sia mai esistito, che la salvò da una banda da guerra devota a Selanesh durante le prime grandi incursioni del caos. Morati è una creatura che condensa in sé magia, manipolazione e segreti e non per niente è uno degli esseri più potenti quando si parla di magia e stregoneria, nonché una strega elfa a cui era concesso di usare la magia oscura. In senso figurato, la regina d'ombra è madre anche delle Daughters of Cain, infatti essa stessa si definisce il sommo oracolo del dio Cain. Morati preferisce lavorare dietro le quinte, distorcendo gli eventi a suo favore grazie a un'alleanza oppure con un assassino scelti entrambi con cura. Tuttavia se provocata risulta essere una forza terrificante, capace di sprigionare magie distruttive e un'arrabbia oltre ogni comprensione. In battaglia Morati brandisce la sua lancia hairtrender e le sue piume affilate sono armi vere e proprie in grado di mozzare arti e teste. Ma un'altra arma più subdola posseduta dalla regina è la sua stessa bellezza, che si dice emanare un'aura talmente sovrannaturale da riuscire a rapire l'animo dei suoi avversari. Certo, questo fintanto che Morati si mostra nella sua forma elfica, ma dietro quello che uno stolto potrebbe apparire come un semplice bel faccino, la regina d'ombra nasconde la sua reale natura. Infatti il vero aspetto di Morati ricorda quello di una gorgone dalle dimensioni spropositate, dove la parte inferiore richiama quella di un serpente gigantesco. I capelli non sono più la cascata corvina di seta che la caratterizza, ma sono tramutati in serpi furiose. Le ali, prima delicate e armoniose, lasciano il posto a enormi membrane squamose di enorme portata, mentre in mano la regina stringe sempre la sua fidata lancia da guerra. L'influenza mitologica delle gorgoni è palpabile, ma se quanto detto non bastasse, una delle abilità possedute da Morati è quella di riuscire a tramutare in pietra chiunque osi sfidare il suo sguardo regale e austero. Ma passiamo adesso alla storia della regina, che ha inizio nell'antico universo di Warhammer Fantasy e continua ancora oggi in Age of Sigmar. Di Morati sappiamo che in principio era una veggente. Fin da quando aveva undici anni, i suoi sogni furono tormentati dalle oscure visioni del futuro. Ma un po' come il mito di Cassandra, Morati era davvero in grado di vedere nel futuro, soltanto che nessuno le credeva, come per esempio quando aveva visto la venuta dei demoni del caos nel mondo che era. Passò del tempo fin quando l'attacco delle forze caotiche accadde realmente, con la prima grande incursione, e gli Elfi si trovarono impreparati perché non avevano dato ascolto alle visioni di Morati. Morati stessa si trovò sotto l'attacco di alcuni demoni di Slanesh, ma fu salvata prontamente da Enerion, detto il re fenice, nonché re degli alti Elfi. Come stregato dalla sua bellezza, Enerion abbandonò la moglie, la regina Astariel con cui ebbe due figli, e decise di sposare Morati. I due si unirono in matrimonio e da loro nacque Malekith. Le invasioni del caos continuavano e col tempo Enerion, per motivazioni non del tutto certe, si tramutò in un tiranno crudele. Probabilmente per via delle influenze del dio Cain sulla sua psiche, ed è la stessa nuova moglie della quale diventò sempre meno certo di potersi fidare. A questo punto serve aprire una piccola parentesi. Chi è Cain? Brevemente, Cain, o signore dell'omicidio, è il dio elfico della violenza, della guerra, della distruzione e del sangue. Sebbene sia venerato in minima parte anche dagli alti Elfi, Cain è il vero patrono degli Elfi Oscuri, i quali lo venerano con massacri e sacrifici di schiavi o compagni. Tutto questo spargimento di sangue compiace e rafforza la divinità, portatrice di un solo messaggio. Il conflitto è necessario per regnare in pace, il massacro dà senso alla vita e l'amore è niente se non temperato dall'odio. Insomma, un tipetto molto tranquillo. Ma torniamo alla storia principale. Per cercare di placare l'animo di Enerion, Morati preparava delle pozioni, ma col tempo diventarono sempre meno efficaci e il sovrano era sempre più pervaso da sentimenti contrastanti. Con le forze del caos alle porte, l'influenza di Cain e anche quella di Morati, Enerion sperimentò un'epifenia e prese coscienza del fatto che ciò che provava per la moglie non era davvero amore, ma un insieme di sentimenti differenti. L'unica donna che aveva amato realmente era Asteriel, mentre ciò che provava per Morati era più un turbine di passioni, lussuria, rispetto, odio e rabbia, ma non amore. Così il re Fenice la lasciò, con un bacio dal sapore amaro, prima di partire per un'ultima battaglia dove perse eroicamente la vita. Nonostante la sua bellezza, Morati fu respinta dal re Fenice e con il cuore spezzato giurò che se suo marito non avesse più potuto governare il popolo degli Elfi, allora l'avrebbe fatto suo figlio Malekith al suo posto. Da quel giorno Morati ha perseguito quell'unico obiettivo, fare salire al trono il figlio e insegnargli tutto ciò che sapeva di magia e stregoneria. Inoltre era sempre pronta a vegliare sul suo Malekith, supportandolo ogni qualvolta dimostrava anche solo un cenno di incertezza. Questo anche perché ha giurato che se suo figlio dovesse morire o venire ucciso, il suo unico pensiero sarebbe solo quello di distruggere il mondo intero. A circa un anno di distanza dalla morte di Enerion, i principi elfici dovettero eleggere un nuovo re Fenice e la scelta ricadde su un certo Bel-Shanar, anziché sull'erede di Enerion, Malekith, poiché avevano bisogno di un sovrano meno bellicoso. Bel-Shanar sposò poi Ivraine, una delle figlie di Enerion avuta dalla sua prima moglie, facendo perdere anche a Morati il titolo di regina. Malekith la prese però con diplomazia e si fece un bel viaggetto guadagnando popolarità nel vecchio mondo grazie a numerose vittorie ottenute contro orchi e adoratori del caos. Quanto a Morati, beh, alle giravano un po' le scatole per tutto quello che era successo e iniziò a diffondere un particolare culto di Slanesh in tutte le terre elfiche, coinvolgendo elfi di ogni ordine e grado. Malekith in seguito tornò in patria desideroso di eradicare le forze del caos, tra cui quelle del recente culto di Slanesh che si stava diffondendo a macchia d'olio. Malekith scoprì che il leader di questo culto era proprio la madre Morati e con un esercito riuscì a sconfiggerla. Morati però fu risparmiata perché promise al figlio di aiutarla a riconquistare il trono della Fenice, così venne semplicemente imprigionata. Dopo anni trascorsi a tramare in segreto, Malekith con l'aiuto di Morati avvelenò Bel-Shanar e rivendicò il trono per sé. Numerose ere passarono e si susseguirono diverse vicende fatte di intrighi, passioni, tradimenti e violenza, che vedevano al centro sempre Malekith e Morati, entrambi intenti di volta in volta ad alternarsi al comando, con la forza o con l'inganno, fino alla fine dei tempi. Durante la fine dei tempi assistiamo alla vittoria indiscussa del caos e in particolare Slanesh riuscì ad avventarsi contro le popolazioni elfiche, divorandone quante più anime possibili, tra cui anche quella di Morati. Con la distruzione del mondo che era, si arriva alle vicende dell'era del mito, dove Malekith si sveglia senza memoria del suo passato e da semplice elfo oscuro che era diventerà Malerion, il re delle ombre, divinità portatrice di tenebra e illusione. Malerion, cercando di trovare altri della sua specie, si imbatte in Morati, che nel frattempo era riuscita a scappare dallo stomaco di Slanesh, mentre quest'ultimo si trovava in uno stato comatoso a seguito dell'eccessivo pasto a base di anime elfiche. Per saperne di più su Slanesh vi rimando al video dedicato, dove parlo anche di come divorò le anime di numerosi elfi alla fine del vecchio mondo. Ma ritorniamo a noi. Morati uscì visibilmente sconvolta da quell'esperienza, ed è proprio questo avvenimento ad averla trasformata nell'essere dalle fattezze semi demoniache che conosciamo oggi, seppur in grado di camuffare il proprio aspetto grazie alla magia. Abbastanza potente da rivendicare un posto nel pantheon dell'ordine capeggiato da Sigmar, Morati avrebbe abbandonato i suoi ex alleati in seguito a tentativi falliti di manipolarli, e si sarebbe persino separata amaramente da Malerion. Morati tiene in piedi una difficile alleanza con Sigmar e il resto del pantheon dell'ordine, ma in realtà cerca solo potere e gloria per se stessa. Il suo scopo ultimo non è che la vendetta su coloro che l'hanno respinta, disprezzata o tormentata, primo fra tutti Slanesh. È proprio grazie a lei che si è riusciti a imprigionare il principe oscuro e a tirargli la maggior parte delle anime elfiche fuori dallo stomaco. Comunque, in qualità di leader matriarcale e alto oracolo delle figlie di Cain, ogni parola di Morati è legge per i suoi discepoli e ogni suo desiderio un comando. Quando sono necessarie diplomazia, stregoneria o seduzione, Morati mantiene la sua veste di regina, ma se dovesse esserci bisogno o quando è in preda a forti passioni, Morati torna alla sua vera forma mostruosa. Per riassumere le sue sembianze solo apparentemente naturali, Morati può impiegare ore o persino giorni attendendo di placarsi. Morati si propone anche come il più alto degli oracoli di Cain, ma non si sa mai dove possono arrivare la sua astuzia e la sua brama di potere, tanto che non è difficile credere che il dio Cain, che dice di venerare, sia in realtà morto da tempo e che non si rialzerà mai più. Ormai Cain, per Morati, non rappresenta altro che l'ennesimo strumento per controllare le sue figlie. D'altronde non sarebbe nemmeno strano credere che sfrutti i sacrifici, le offerte e le lodi al dio morto per rafforzare invece se stessa e usare questo potere per raggiungere i propri obiettivi di vendetta. Morati è stata seguace di diverse divinità, ma alla fine la realtà è sempre ben diversa da quella che vuole far credere. Potremmo dire che ormai l'unico dio venerato da Morati non è altro che Morati stessa. Ciò che le manca infatti è solo il potere e il titolo di divinità ed è proprio ciò che vuole ottenere in Broken Realms. Che si indeboliscano pure fra loro gli eserciti di Sigmar, di Nagash, degli orchi e dei devoti del caos, perché l'ascesa di Morati non avrà fine fin quando la sua sete di sangue e gloria non si sarà placata. La regina d'ombra d'altronde aspetta solo il momento adatto ed è disposta a usare ogni mezzo a sua disposizione per ottenere ciò che desidera. Bene ragazzi, voi che ne pensate di questo personaggio così tragico? Sinceramente mi piacciono molto i rimandi alla mitologia greca, ma fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Secondo voi il suo piano riuscirà finalmente a vedere la luce oppure destinato alle tenebre che le sono tanto care? Scatenatevi qui nei commenti anche con speculazioni su come il suo intervento stravolgerà il mondo dell'era di Sigmar. Il video finisce qui, ma se il contenuto ti è piaciuto ti invito a supportare il canale iscrivendoti, lasciando un mi piace e condividendo il video con i tuoi amici. Inoltre ti ricordo di cliccare sulla campanellina accanto al tasto iscriviti per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità del canale. In questo modo non perderai gli ultimissimi episodi di Lore o le altre rubriche che porta avanti qui su YouTube. Detto ciò un saluto, un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video, ma se non volete aspettare seguitemi sui social.